La notizia della probabile collaborazione tra Simone Vagnozzi e il campioncino Yannick Sinner naturalmente è una notizia che ci coglie di sorpresa, in quanto una collaborazione che sembrava ferrea come quella tra Yannick e Riccardo Piatti sembra essere interrompersi in favore di questa nuova collaborazione tra Simone Vagnozzi che è un ex giocatore, ora grande coach, in passato ricerchinato che è arrivato fino alla posizione numero 12 del mondo e poi di Stefano Travaglia con il quale ha raggiunto il best ranking importantissima anche per la regione Marco e nel caso in cui si verificasse effettivamente perché quantomeno riusciamo a chiudere il cerchio, nel senso che in questi ultimi anni, in questi 10-12 anni abbiamo avuto grandissimi risultati con i ragazzini, abbiamo vinto circa 40 titoli italiani junior tanto che qualche giornale si chiamava, si appellava come una regione come la Florida del Tennis paragonata all'Accademia di Bollettieri, la famosa Accademia di Bollettieri per i risultati ottenuti significa che oltre ai risultati di junior che poi sono diventati anche in parte professionisti come Elisabetta Cocciaretto, come Stefano Travaglia, come Gianluigi Quinzi, come Luca Nardi, Emiliano Maggioli Sofia Rocchetti, Jennifer Ruggeri, tutti i ragazzi che stanno intraprendendo la carriera professionistica che si hanno classifica mondiale, il cerchio si completa con anche grandi allenatori diciamo Simone Magnozzi ma anche Roberto Antonini che ha allenato l'U, un taiwanese, è stato 24 nel mondo per poi allenare la Dias, oggi è 30 nel mondo nonché Lucas Braccini, tecnico della selezione italiana e responsabile del settore Andersevici o anche Giovanni Paolisso, responsabile dell'italiano per la categoria Ander 18 per la federazione qui a Formia significa che poi le marche, oltre a grandi junior, a grandissimi giocatori professionisti che hanno rappresentato il nazionale di Coppa Davis con Stefano Travaglia e di Fed Cup con Elisabetta Cocciaretto sono capaci anche di dare e di sfornare prestigiosi e importanti coach Grazie